Proiettiamo agli studenti, fanno parte di tutto questo apprezzamento della cultura internazionale ma anche dell'arte del film. Il film è come un mezzo di comunicazione che ovviamente ha tanto da dire agli studenti ma anche come un'opportunità di lavoro per tanti di loro che vogliono guardare il cinema come un mezzo nuovo, un mezzo diverso per stabilirsi nella nostra grande società. Quindi porto questo invito a tutti gli insegnanti, a tutti gli studenti quest'anno di partecipare a questa nuova edizione del festival che si terrà ad aprile tra il 6 e il 13 aprile di quest'anno. Ovviamente vi aspettiamo tutti, numerosi. e vogliamo che sia un'esperienza, ovviamente, educativa e un'esperienza anche di intrattenimento. You are so important to us that you will be our jury. Il nostro festival ha questa caratteristica di grande ombrello che salvaguarda allo stesso tempo la qualità e la varietà. Ecco, perché ci sono medie, programmi, perché ci sono anche di thriller, perché partecipano anche le nostre associazioni regioni, ma soprattutto perché il festival si allarga sempre di più ad altre città del Canada, si allarga anche ai contributi cinematografici, in cui non è l'Italia in quanto tale, ma è anche l'italianità come concetto, come cultura, come atteggiamento verso la vita, che è un bel concetto. Quest'anno riproponiamo ICFM Moda, ha avuto tantissimo successo, non solo per quanto riguarda i film basati sulla moda, ma la moda stessa, perché come tutti sanno, il Made in Italy piace tutto il mondo, piacciono i vestiti, piace il glamour, piace il mangiare, poi piace l'idea di ritrovarsi tutti insieme, mentre si guarda qualche bel film, anche a riparlare di questo film e a godersi la moda. I studi public relations at GoCumper, so it's like communication, so my role is to be on communications as interns, so I'll be helping both the film festival to the audience out there, trying to bring them in to come view the movies that we have showing. So I'm going to be doing special events, assisting dinner, which means doing all the special events in Montmont. I'm really excited to learn a lot about the Italian culture, the Italian cinema, all of it that bring the Italian culture here to the city of Toronto, that's what I'm most excited for. Sì, certamente, molto orgoglioso di dove abbiamo portato questo festival, insieme a questo gruppo che da anni adesso sta lavorando su questa ottava edizione del festival, che veramente è una piattaforma nazionale, ci troviamo a Vancouver, Ottawa e ovviamente a Toronto e Montreal. E' un festival a livello veramente internazionale e di qualità veramente a livello uguale a questi altri festival del mondo, come TIF e Venezia, e ci sta anche adesso l'ICFR. Per questa verità è tutto, ci vediamo sempre il prossimo venerdì, sempre qui, suonete le baci. Grazie. 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 Grazie.